Pensato per il lavoro e per il tempo libero, il Yamaha Kodia 450 EPS SE è una TV di medi dimensioni che fa della versatilità il suo punto di forza. Le sue dimensioni compatte gli permettono infatti di affrontare con agilità i trail più insidiosi, ma allo stesso tempo di essere utilizzato per lavori di vario genere come ad esempio in aziende agricole. Andiamo quindi a scoprirle insieme in questo nuovo test drive. La propulsione del Kodiaq è affidata a un robusto e collaudato monocilindrico da 421 cm3, 4 tempi raffreddato a liquido. Ovviamente non stiamo parlando di un mostro di potenza, il Kodiaq ha circa 26 CV. L'erogazione però è lineare e controllabile, la potenza viene erogata bene fin dal minimo, producendo una buona coppia utilizzabile fin dai bassi regimi. Il Kodiaq si arrampica facilmente, affrontando le pendenze senza mandare su di giri il motore, migliorando così il controllo e la sicurezza. Ottima la trasmissione a variatore. Il blasonato sistema Ultramatic è considerato tra i più affidabili sul mercato. Il Kodiaq 450 vanta una buona trazione. Grazie al comodo comando posto nel blocchetto di destra è possibile inserire le quattro ruote motrici. In questa versione in prova è anche presente il blocco del differenziale anteriore, inseribile anch'esso con una semplice pressione di un pulsante. Compatta e leggibile la strumentazione, affidata a un display monocromatico. La ciclistica presenta sospensioni a doppio braccio trasversale con ammortizzatori a gas Kayaba regolabili in 5 posizioni. L'altezza da terra di 25 cm e l'ottimo setting delle sospensioni rendono molto efficace e confortevole la guida, anche grazie al manubrio rialzato e all'ottimo servo sterzo EPS. La frenata è affidata a due frene a disco anteriori abbinate al posteriore a dischi multipli in bagno d'olio. Le prestazioni dell'impianto sono allineate con il resto del veicolo. La frenata è modulabile e non troppo sensibile. La dotazione del Kodiak è completa, presenta due piani di carico in acciaio la cui portata è rispettivamente di 40 kg all'anteriore e 80 kg al posteriore. Nella parte frontale troviamo il faro centrale supplementare e il verricello Warren da 2500 libre, mentre al posteriore troviamo il gancio di traino che permette al Kodiak di trainare fino a 600 kg. Molto belli i cerchi in alluminio pressofuso da 12 pollici, anch'essi di serie sul modello SE. Il prezzo d'acquisto è più elevato rispetto alla concorrenza, ma è tuttavia allineato con la qualità del quad. Se stai cercando una TV affidabile e robusto, allora Yamaha Kodiak 450 potrebbe essere la scelta perfetta per te. Telaio e sospensioni si abbinano perfettamente al motore, la guida è decisamente confortevole. L'erogazione del motore, lineare e controllabile, unita all'agilità e alle dimensioni compatte, fanno del Kodiak il mezzo ideale per neofiti e lavoratori che ricercano un mezzo pratico e con bassi costi di gestione.